amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera buonasera ragazzi buonasera l'italia di mancini va in finale è stata una bella partita è stata una bella partita non c'è stato diciamo lo spettacolo che uno magari pensa che cerca uno pensa che cerchiamo uno spettacolo no assolutamente no è stata una partita con un'ottima intensità con un'ottima grinta con un ottimo spirito di squadra ci sono visti degli schemi ci sono questi dei movimenti ci sono visti 11 giocatori che sanno quello che devono fare hanno lottato hanno onorato e hanno fatto hanno vinto la partita e di fronte non è che c'era una squadretta c'era un ottimo test l'ungheria in testa in classifica ha fatto bellissime partite con altre squadre germania inghilterra quindi il test era ottimo molto 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 provante molto provante quindi italia ottima italia buona italia ottima italia contento diciamo perché mancini mancini è un ottimo è un buon tecnico è un buon tecnico a fa un buon calcio fa un calcio poterlo sì è vero non siamo in mondiale purtroppo gli episodi anche fanno sì che certe cose purtroppo si si manifestino e si manifesta e anche purtroppo certe volte le partite ragazzi fatte in condizione in condizione fai zitta vittoria in condizione diciamo dove dove magari il campionato la coppa campione la champions league magari ti assorbe energia ti toglie non sei in forma l'aspadore oggi magari oggi ho fatto anche un gol un altro quattro gol l'aspadore è in forma sbagliante condizione del napole lo stesso giudicino donna ruma su tutti naturalmente perché donna ruma gli ha fatto veramente grandissime tantissime 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 parlare questo ragazzo alterna a cazzate ad a partiti come quella di oggi dove veramente si è elevato magari forse il migliore senza magari il migliore il migliore in campo però ripeto l'italia ha fatto il suo gioco no 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 noi non chiediamo spettacolo noi non chiediamo champagne noi chiediamo semplicemente di fare un buon calcio un calcio gradevole non ti sei addormentato sulla sedia in poche parole te la sei vista la pochina te la sei goduta azione da un'altra da ambo le parti se c'è da soffrire si soffre ma la partita è stata piacevole e bella tutto lì non è come quando vediamo noi la venezia che ti viene veramente il sonno il coma il coma profondo quindi complimenti a mancini e adesso ci riputiamo sul campionato ma se ci incazzare fino alla fine forza io buonanotte ragazzi a domani